Si consolida il rapporto d'amicizia e collaborazione tra la città cunese di Bras e il paese francese di Saint-Ponts, i servizi. Saint-Ponts in gita a Bras. Questa storia inizia nell'ottobre del 2010 quando Giacomo e Liliana Berrino, Suor Maria Teresa e Livio Bramardi, con una visita a Saint-Ponts, ridente paese al di là del Colle della Maddalena, iniziarono la ricerca degli avi del Cottolengo. Nacque così una proficua conoscenza con l'amministrazione comunale francese, conoscenza migliorata e approfondita nella seguente primavera quando si aggiunse alla combricola al poliedrico Pio Giverso, Occitano-Doc. Sabato scorso il sindaco di Saint-Ponts, accompagnato da un assessore da un folto gruppo di cittadini, è venuto a far visita agli amici braidesi. Il sindaco e alcuni di loro hanno raggiunto Bras con una pedalata di 165 chilometri e una salita al Colle della Maddalena. A ricevere la rappresentanza del comune d'Oltralpe, gli amici braidesi guidati da Pio Giverso, che con la sua padronanza della lingua occitana ha contribuito a rendere ancora più profonda la simpatica amicizia. Il pomeriggio è proseguito il campo sportivo di San Michele, nella nuova struttura dove sono stati ricevuti da un'orchestrina di ottimi elementi. La giovane Speranza ha donato Murro alla tromba, il tuttofare esterino, Gino alla fisarmonica, Arturo al contrabbasso, Gianni alla chitarra. Dopo gli inni nazionali si è passata una piacevole e ottima cena, preparata dalle donne che partecipano al gruppo dei Cante Ieu di San Michele. L'agape è stata condita con canti sia piemontesi che occitani, splendida l'esibizione dell'ospite francese Marilyn, che come interpretazione dà parecchi punti alla famosa Carlat. Durante la cena, proprio l'insegna dell'amicizia che si è instaurata tra i cittadini francesi del piccolo centro del Lubai e i braidesi, particolarmente con gli abitanti della frazione di San Michele, il sindaco di Saint-Ponts ha dichiarato un'amicizia che ci vede come fratelli di una sola famiglia. In particolare, più giverso, tra occitanici si capisce meglio, si è poi tracciato un interessante programma di visita e collaborazione tra le due comunità. La prima visita dei braidesi sarà il prossimo 12 agosto per la festa della Mietitura, la seconda durante i festeggiamenti natalizi. In questa occasione sarà cucinata una polenta per 200 commensali condita con gorgonzola e a seguire la tipica salsiccia di bra.